La relazione che siamo chiamati ad esaminare in quest'Aula è stata approvata all'unanimità della Commissione antimafia lo scorso 17 giugno e trasmessa il giorno successivo ai Presidenti di Camera e Senato. La relazione in oggetto ha come obiettivo quello di indicare, nelle dovute sedi istituzionali e soprattutto nei confronti del Governo, le condizioni della criminalità organizzata a livello europeo, nonché le necessarie azioni che lo stesso dovrebbe, o meglio, avrebbe dovuto mettere in atto in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione Europea. Una relazione quindi che avrebbe avuto molto senso a provare a discutere in quest'Aula mesi or sono, perché oggi ci troviamo praticamente a 40 giorni dalla scadenza del semestre di Presidenza italiana dell'Unione Europea, per cui il rischio è che questa discussione sia di fatto una discussione fine a se stessa, nonostante l'ottimo lavoro svolto dalla Commissione antimafia e dalla relatrice, che personalmente ringrazio. Ma veniamo alla relazione in sé. È chiaro un punto di partenza. La necessità di una banca dati comune, una standardizzazione di una comunicazione di un linguaggio comune per riuscire a lottare in maniera efficace contro le mafie. In tal senso si vuole strutturare e promuovere il funzionamento di una procura unica antimafia a livello europeo, utilizzando delle banche dati uniche a livello internazionali, rafforzando i programmi di collaborazione delle forze di polizia nei diversi Stati. Faccio riferimento anche ai flussi criminali, come si sviluppano le mafie in che settore, soprattutto narcotraffico, tratta di esseri umani, sfruttamento della prostituzione, traffico d'armi, di beni rubati, contraffazione e mercato dei prodotti, che diventano dei veri e propri settori con il proprio racket di riferimento. Questo è l'impianto generale. Sono attività che vedono il rapporto sempre più stretto tra le diverse organizzazioni criminali. Quindi ci sono delle vere e proprie strutture internazionali che si muovono in questi settori. Quello che attualmente rappresenta la programmazione e la linea di indirizzo, però, del Governo non è affatto in linea con quanto si auspica o si propone in questa relazione. Basti guardare dei piccoli esempi per scoprire che c'è un enorme gap tra l'indirizzo parlamentare e la pratica governativa. Primo tra tutti, per esempio, la riduzione delle risorse che vengono assegnate al Ministero dell'Interno per le attività delle forze dell'Ordine in materia di narcotraffico. Cioè noi dovremmo andare, noi, il Governo dovrebbe andare in Europa a dare delle linee di indirizzo, cioè a far capire come noi affrontiamo questo problema, a proporre una soluzione a livello europeo, ma ci andiamo già consci che ci siamo auto-amputati, quelli che era il braccio armato per riuscire a difenderci e a lottare contro il narcotraffico. E questo è il punto numero uno. Settore numero due, tratta di persone. Ricordo per chi ci seguisse da casa che il narcotraffico e la tratta sono due tra le attività maggiormente, diciamo così, remunerative per la criminalità organizzata a livello internazionale, a dirlo non sono io ma la relazione semestrale della DIA. Sulla tratta, cosa succede? Queste organizzazioni sfruttano anche qui le differenze cognitive di informazioni che esistono tra i vari Paesi, per cui sfruttando questi vuoti di sistema e normativi riescono a spostare comodamente persone addirittura a bilanciare il sistema dei costi, riuscendo a ridurre i costi del trasporto e a guadagnarci sopra. Quindi è qualcosa che dei Paesi civili non dovrebbe nemmeno potersi vedere. Solo grazie alla mancanza di un sistema informatico di scambio tutto questo è possibile. È possibile spostare delle persone dai Paesi di provenienza in quelli d'arrivo in maniera del tutto indisturbata. E pensi, Presidente, che spesso nei Paesi d'arrivo manca addirittura un sistema di garanzie e di tutele per questi schiavi moderni. E provi a indovinare qual è uno di questi Paesi in cui manca un sistema di garanzie. Ovviamente l'Italia, la domanda si risponde da sola. È uno dei nostri Paesi. Perché l'Italia è uno di questi Paesi? Perché ha recepito la direttiva europea in merito tre anni dopo, quindi non era geologica in tema, tre anni dopo. Erano previste nel decreto due scadenze, una di luglio e una dell'ottobre, ormai passate entrambi, una sul piano antitratta e l'altro sul programma unico di emersione. Anche in questo caso, secondo la relazione, il nostro Governo dovrebbe farsi promotore in sede europea di programmi e di piani di coordinamento per il contrasto all'organizzazione in questo tema. Peccato che non l'abbia fatto neanche nel proprio Paese. Non si sa se è per scelta o per semplice negligenza. Altro settore, i beni sequestrati e confiscati. Anche qui la normativa è deficitaria, tant'è che la Commissione antimafia si è impegnata nell'arco di quest'anno a fare sia una valida relazione che a prevedere una modifica dell'articolato del codice antimafia. Anche qua il Governo tace. Altro elemento critico e deficitario che il Governo invece dovrebbe promuovere presso le sedi istituzionali è quello relativo alla collaborazione in merito alle infiltrazioni criminali nelle grandi opere. Noi su questo abbiamo decisamente la maglia nera. Ne prendiamo ad esempio solo due. Il TAV di Chiomonti, io ci sono affezionata perché sono piemontese, e l'Expo di Torino. Due casi emblematici di infiltrazione nelle grandi opere che sono opere di respiro internazionale. Prendiamo il caso particolare del TAV. Attualmente il Governo si trova ad aver ereditato quello che è l'accordo italo-francese che prevede l'applicazione esclusiva del diritto francese in sezione trasfrontaliera. Questo significa, parafrasando, che fino a Bussoleno non si applicherà la normativa antimafia. E ad oggi questo Governo, che ha ereditato, è vero l'accordo, ma a questo Governo è stato segnalato più volte questa mancanza, non ha adottato nessuna decisione, nessun programma di collaborazione con il Governo francese, per evitare che ci siano dei rischi in quella sezione e per far sì che ci sia un'applicazione di una normativa antimafia addirittura oltre Alpe, ma figuriamoci che questi sono sogni. Però queste criticità sono state sollevate da questa opposizione. In Commissione antimafia la Presidente Bindi ne è testimone, in Commissione affari costituzionali è il Presidente Sisto ne è testimone e in quest'Aula è il Presidente della Camera, né è testimone. L'individuazione di una Convenzione di questo genere rappresenterebbe senza dubbio un precedente ottimo per il nostro Paese nei confronti dell'Europa. Sarebbe un ottimo precedente, un ottimo punto di partenza per dimostrare che non siamo la solita Italia che tutti si aspettano. Ma evidentemente, a 44 giorni dalla scadenza del semestre di Presidenza italiano, lo vedo quantomeno difficile. E si perde così un altro punto indicato nella relazione, che è quello di prevedere all'interno di tutta l'Unione Europea una normativa comune per il contrasto alle organizzazioni mafiose. Altro punto, che non vedrà purtroppo la luce, ma questa è colpa di quest'Aula, se si può dire, il contrasto al rapporto politica-mafia. Siamo tutti, insomma, io mi affido alla vostra memoria, ma vi ricordate tutti il provvedimento che uscì in una certa maniera alla Camera, venne trasformato al Senato e incredibilmente riapprovato in quest'Aula, in questa, con un relatore arrivato qui sotto la bandiera di Libera, che francamente è una cosa che personalmente mi lascio quantomeno perplessa. Quindi è un altro punto della relazione completamente inutile. Io mi avvio alle conclusioni, Presidente. Vorrei soltanto dire che mi spiace deludere il Presidente Renzi, probabilmente gli sembrerò un gufo, però, quanto detto, è tutto assolutamente vero. Non c'è nulla di cui essere ottimisti, nulla di cui essere fieri, orgogliosi o fiduciosi. Purtroppo, per quel che riguarda questa relazione, ma non solo, siamo fuori tempo massimo. E ancora una volta, la Commissione Antimafia, che ha fatto un ottimo lavoro su questa relazione, lo ripeto, purtroppo questo lavoro si fermerà su un binario morto del nulla. Sarà una relazione di puro principio, una relazione di mera teoria e di tutto questo noi purtroppo non possiamo che dispiacerci. Grazie.